Sistema Botwinnic, quarto video. Stiamo vedendo delle partite selezionate in base a due criteri, e cioè il nero risponde E5 e il nero risponde G6. Quindi le due condizioni necessarie e sufficienti, secondo cui, a detta di Botwinnic, il suo sistema era il più efficace possibile. Quindi stiamo cercando di capire quali sono i piani migliori per il bianco. Con E4, questa mossa strana, il bianco perde il controllo della casa D4, però è anche vero che incrementa il controllo della casa D5, guadagna spazio al centro, è eventualmente pronto a giocare E per F5, insomma ha lati positivi e lati negativi. Ma soprattutto bisogna ricordarsi che l'alfile G2 non è morto, prima o poi si risveglierà. Questa è una partita Cernin-Acopian, che è stata analizzata dal grande maestro Ribli. Io nel mio database ho usato molte partite analizzate da Ribli, le sue varianti le ho lasciate tutte così come le ho trovate, come erano disponibili, perché, insomma, mi sembrava giusto e corretto, anche perché è un grande esperto di inglese, e quindi, cavallo G7 e D3. Ok, vediamo, qui siamo alla settima mossa, il nero sceglie cavallo D4. Questa è interessante, ma probabilmente dubbia, perché in generale il nero dovrebbe cercare di occupare la casa D4 con un pezzo, non con un pedone. Invece, dopo il cambio, sarà costretto a ricatturare con un pedone. E questo è in generale sbagliato. Quindi era meglio, diciamo, proseguire con una mossa tipo, che ne so, arrocco, arrocco, e poi, semmai, F5. Ecco. Anche se, cavallo D4 è pur sempre una mossa che viene giocata tranquillamente. Quindi, insomma, è da conoscere, da studiare, e infatti ci sono tutte le analisi diribili, che ovviamente io non guardo, in questo momento, poi al limite, appunto, ve la vedete voi direttamente nel database. Dopo, ovviamente, cavallo per D4, quindi quando praticamente il nero occupa la casa D4 con cavallo, bisogna immediatamente eliminarlo, e è ovvio, cavallo D2. Ecco qua. In pratica è successo quello che non doveva succedere per il nero. Cioè ha occupato la casa D4 con un pedone e non con un pezzo. E a questo punto l'alfile G7 è rimasto tendenzialmente cattivo. Ecco, non ha migliorato la sua posizione. Vediamo come ha proseguito a Copian. ha proseguito con C7-C6, che è una mossa logica e ragionevole. In pratica ha controllato la casa D5. C5 chiaramente è una mossa quantomeno dubbia, perché dopo, per esempio, cavallo F4, è chiaro che il bianco potrà andare lui stesso ad occupare la casa D5. Quindi C6 sembra estremamente ragionevole. Ci sono tutta una serie di analisi di partite riportate da Ribli, ma trascuriamo. Arrocco corto, arrocco corto, H3. Il sistema Botwinnic si sta, diciamo, sviluppando regolarmente. H3 è una mossa profilattica, che previene in ogni caso o cavallo G4, oppure, come in questo caso, alfile G4. Quindi è una mossa che va fatta, prima o poi. Tra l'altro, lascia la casa H2 per il re, perché con il re andremo a finire in H2. Quindi è una mossa standard del sistema. Ovviamente sono state provate anche altre mosse, torre B1, oppure B4, oppure alfile D2. Vabbè, e Ribli, ovviamente, si sbizzarrisce, qui fa vedere varie partite, ma, insomma, H3 è logica. Alfile E6, B3, F5. Ecco qua, questa è un'idea che il nero prima o poi gioca, cioè quella di minare alla base uno dei piani tipici del bianco, cioè quello di spingere F2, F4. Quindi il nero cerca lui di fare qualcosa del genere, cioè o di cambiare in E4 o di spingere in F4. Quindi la mossa in F5 è fondamentale. L'alternativa potrebbe essere D5, E per D5, C per D5. E ora, non so, ho alfile A3, il bianco sta meglio, oppure anche, semplicemente, cavallo F4, è sempre il bianco sta meglio. Quindi non è buona, quindi dicevo F5, il bianco ha proseguito con alfile B2. Ecco, vedete il difetto fondamentale del pedone in D4, è già sotto attacco. Quindi, chiaramente, insomma, piazzare prematuramente un cavallo in D4 non conviene quasi mai. Dunque, dopo alfile B2, il nero ha proseguito, ha dovuto difendere il pedone, l'ha difeso con Db6. C5, ovviamente, è sempre lo stesso discorso, cavallo F4. Improvvisamente ci rendiamo conto che non solo l'alfile Campochiaro del bianco non è cattivo, si può aprire rapidamente, la casa D5 è facilmente occupabile, insomma, chiaramente C5 proprio non ha senso. Quindi, donna B6, assolutamente, per difendere il pedone in D4, torre B1, G5, con l'idea di fare F5-F4, oppure semplicemente quella di prevenire cavallo E2-F4. Però, però, è un indebolimento del lato di Re. E per F5, ecco, spesso e volentieri il bianco alfile per F5. G4, bella, questa mossa H3 ha anche, diciamo, il significato di poter preparare un'iniziativa sul lato di Re. Alfile G6-F4. Bene, vedete bene come quindi il bianco sta sviluppando il suo attacco sul lato di Re in maniera molto semplice. Cioè, quindi, cavallo D4, il cambio in D4, come vedete, non conviene mai al nero se non riesce a piazzare un pezzo in D4. Proseguiamo, G per F4, cavallo per F4. Cioè, la partita da un punto di vista strategico è già praticamente conclusa. Cioè, nel senso che il bianco ha mani libere sul lato di Re. Mentre il nero, dove potrà attaccare? Al centro, di sicuro no, perché c'è pedoni doppiati. Sul lato di Donna, ma io debolezze non ne vedo, non ne vede nemmeno il nero. E quindi, dove può attaccare? Vediamo un po' che cosa fa il nero. Ha fatto Alfi Re 5. Vabbè, per attaccare il cavallo. Insomma, sì, giustamente, qualcosa deve pur fare. Un'alternativa poteva essere torre F7 per raddoppiare le torri sulla colonna F. Ecco, anche questa poteva essere un'alternativa. Però, in pratica, il nero incomincia già a essere a corto di mosse. Alfi Re 5. Il bianco tranquillamente difende. Anche perché, onestamente, in B2 non stava facendo più niente. Il pedone D4 è ottimamente difeso. Quindi, che senso aveva? Tanto male riportarsi indietro. Torre F6, non solo, con Alfi Re C1 ha liberato la casa B2 per la torre. Bella questa alzata di torre, questa mini alzata di torre, con cui il bianco si prepara a raddoppiare, a portare i pezzi sulla colonna F. Poi, una volta raddoppiati i pezzi sulla colonna F, può proseguire tranquillamente col suo attacco. Ad esempio, H4, H5, cioè, tranquillamente attacca sul lato di Re. Vediamo, ha raddoppiato le torre, ha raddoppiato pure il bianco. Donna A5. Il nero è alla ricerca di un improbabile controgioco sul lato di donna. A3, torre F7, il nero, come vedete, non sa letteralmente che fare. Ribri analizza in profondità Alfi Re per F4. Questo cambio, giusto per cambiare, insomma, un pochettino la situazione, ecco, per dare una svolta alla partita. Ma, insomma, non ha veramente molto da fare. Il nero, torre 8 per F7. H4. Ecco, beh, insomma, penso che il gioco del bianco sia stato estremamente facile e distruttivo. Prima ha attaccato il pedone D4, ha metto sotto pressione quel pedone, il nero lo ha difeso bene, correttamente, e allora ha rivolto la sua attenzione al lato di Re. Questo è il bello del sistema botwinnik, che si può attaccare sull'intera scacchiera. Il nero, a questo punto, si è deciso a fare Alfi Re per F4, per fare qualcosa, l'alternativa, Dona C3, per esempio, Fil D2, Dona B2, Alfi Re B4, e la donna, cioè, è andata troppo oltre, cioè, non ha controgioco, ecco, sul lato di donna. Quindi ha provato a fare Alfi Re per F4, Dona per F4, cambia, cambia, Dona C3, se cattura il pedone, il bianco semplicemente prosegue con H5, e l'alfile è intrappolato, quindi ha fatto Dona C3, Dona F3, Dona C3 serviva per dare una casa di fuga all'alfiere, insomma, praticamente, per poter catturare l'alfiere per D3, quindi il bianco lo ha catturato, H6, deve dare una casa di fuga a quell'alfiere, H5, torna indietro, alfiere per H6, caduto un pedone. Beh, direi che abbiamo visto parecchio, vediamo giusto la fine, anche se faceva H5, comunque non si salvava lo stesso, vediamo le analisi di Ribli, se avesse fatto H5, avrebbe proseguito con G per H, Alfi per H, scacco, copro, Cd2, Dona B2, H5, e perde il pezzo, perché è inchiodato, quindi non c'era nulla da fare. Quindi, dopo Alfiere per H6, eravamo in questa situazione, l'era giocato D5, se torna per F3, Dona per F3, non cambia niente, anzi, addirittura adesso ci sono minacce di matto, quindi non ha fatto D5, Dona F1, e Alfiere per D3, offre un pezzo il nero, oramai in preda alla crisi depressiva più totale, il problema era che il matto in F8 è praticamente imparabile, quindi ha dato Alfiere per F3, torna per F3, D3, Alfiere F1, beh, proprio oramai non ci sono più chance, D per C4, vediamo rapidamente come è andata a finire, Dona F4, vabbè, poteva fare anche Alfiere F2, e catturare il pedone, ma non, Dona C2, Dona E4, c'è il problema che quel pedone, l'unica speranza del nero, ecco qua, vabbè, a questo punto ha abbandonato, ma semplicemente ha abbandonato, poteva abbandonare da prima, insomma, ha abbandonato adesso, semplicemente perché adesso il bianco gli dà scacco matto, è totalmente imparabile. Quindi, da questa partita, che è riccamente analizzata da Ribli, praticamente, abbiamo visto come l'occupazione della casa D4, da parte del nero, non è semplice, ce la deve preparare con estrema attenzione. Beh, io direi ci fermiamo qui, nel prossimo video invece vedremo l'ultima partita, sulla serie C4 e E5, è una partita di Suba, del grande maestro Suba.